e ciao a tutti amici un amico mi chiesto se possibile realizzare in brief title una semplice scritta portarla in da vinci resolve per vedere se si integra bene io ho fatto un non proprio una semplice scritta ho fatto questa scritta qui come vedete metallica con riflessi inoltre gli ho dato una sfocatura sulla telecamera in maniera da simulare una messa a fuoco vedete che qua è sfocata invece qua è a fuoco adesso la sto mandando in play da qua come vi ho detto un po a scatti perché sto registrando con l'altro programma ma vedrete che adesso la esportiamo bene inoltre cosa ho fatto da qua ho messo qualità eccellente che la qualità diciamo come tracciatura del carattere o comunque delle delle immagini nel miglior modo e adesso andiamo a esportarla la esporteremo mettiamo come risoluzione 4k così vi faccio vedere cosa succede quindi andiamo a impostare risoluzione andiamo a impostarla 4k ok e poi andiamo a esportarla invece come move trasparente in maniera che potremmo vederla così com'è o con la trasparenza scriviamo scritta da bucare perché la vedremo anche sopra un filmato e lasciamo ora che il codec esporti ok prima di passare a da vinci vado a azzerare qui e andiamo a impostare perché vedete che blast title è già 3d invece vado a fare piatto in maniera che la sestità sia piatta scegliamo un font più carino dovrebbero esserci delle serie di futura un po più lineari meno meno bold ecco vediamo se questi ecco sono light con che programma è scritta questa frase lo andiamo a ridimensionare ok la lasciamo fissa riduco la risoluzione se no posta la risoluzione facciamo un full hd normale ok lasciamo anche meno secondi facciamo 4 secondi perfetto e vado a esportare questa frase tra l'altro dovete sapere che blast title ha due possibilità di esportare un video di esportare un'immagine e quindi se avete anche bisogno solo di una scritta fissa non ha nessun senso ma potete farlo però magari avete preparato qualcosa di composto e vi interessa avere un immagine potete farlo per un anteprima qualsiasi cosa comunque noi creiamo gli anche un movimento va così se no non ha molto senso facciamo entrare semplicemente questa scritta da da sinistra ecco lasciamo così e adesso la vado a esportare sempre trasparente scritta unica ok e adesso mi sposto in da vinci eccomi in da vinci ho importato la scritta e anche l'altra scritta più una ripresa andiamo a inserla qui e adesso vediamo la nostra animazione in due modalità una direttamente sul nero e come vedete importato non nessuna difficoltà aprire ecco qua la scritta nella nostra nella nostra timeline ovviamente cosa c'è c'è che questa scritta adesso che in 4k quindi molto pesante da fare girare potrei attivare i proxy eccetera però non ha importanza andiamo a vederla sopra la nostra la nostra ripresa questa è la nostra ripresa andiamo a inserire semplicemente l'immagine e come vedete non devo far assolutamente nulla già da vinci riconosce il canale alfa e guardate che meraviglia adesso a parte appunto gli scatti che 4k ma guardate che qualità vedete adesso la vado a esportare per farvi vedere cosa viene fuori e ovviamente qui possiamo andare anche accorciamoli della stessa ecco dimensione ero qua qua possiamo andare applicare color effetti qualsiasi cosa vogliamo aggiungere un altro effetto di colorazione ad esempio vado a cercarmi in adjustment clip alt giusto clip eccola qua la vado a trascinare vado ad esempio a spostare la la temperatura di questa clip vedete che la sto facendo più fredda o più calda io voglio tutto più caldo faccio tutto e non qual modo in entrambe le clip e come vedete o entrambe le clip più calde adesso questa questa scritta sembra più dorata e io faccio una l'esplare fissa ecco qua la andiamo a posizionare bo qua in alto adesso sto facendo un po caso scusatemi andiamo a esportare tutto per farvi vedere il risultato vado qui ed ecco cosa abbiamo ottenuto ma come facciamo a sapere con che programma abbiamo fatto questa scritta non si può sapere assolutamente è una scritta bellissima come vedete di qualità adesso io persino sbagliato frame rate per cui può darci che ci sia qualche frank e salta perché il filmato sotto offre in rete e la scritta un'altra comunque potete vedere qualità assoluta andiamo a fare una controprova andrò a trascinare in timeline la scritta di draft title e ne farò una uguale identica con lo stesso carattere è tutto in da vinci e proveremo a vedere dov'è la differenza ho sfalsato a caso le scritte di draft title e quelle di da vinci per non farle riconoscere ma come fate riconoscere lo stesso carattere stessa dimensione eccetera è impossibile non so cosa voglia dimostrare questa prova al nostro amico ma se può essere di aiuto a capire la qualità di da vinci alla qualità di bluff title e che integrato nel programma proprio non si distingue insomma da qua anche cose molto più complesse vi ringrazio acquistate bluff title ciao 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 ciao